gli elettrodi sono costituiti da un filo metallico detto anima rivestito da una miscela di sostanze particolari che fondendo durante la saldatura proteggono il bagno di fusione da cosa lo proteggono e allora durante la fusione allo stato fuso il rivestimento galleggia sul sul bagno proteggendolo da ossidazioni superficiali e inoltre rallentano il raffreddamento una volta avvenuta la solidificazione il rivestimento viene rimosso sotto forma di scoria inoltre il rivestimento può fornire al bagno fuso elementi di lega come il silicio il manganese il ferro questi elementi influiscono sulla composizione chimica del cordone di saldatura migliorandone e quindi aumentandone le caratteristiche meccaniche inoltre va detto che il rivestimento dell'elettrodo influisce sulla stabilità dell'arco elettrico sulla profondità di penetrazione e sulla deposizione del materiale oltre che la purezza del bagno gli elettrodi possono essere classificati in base a quattro quattro tipi di rivestimenti abbiamo il rivestimento acido rutilo cellulosico e basico ma come viene scelto l'elettrodo corretto allora se osserviamo la confezione sopra la confezione viene rappresentata una sigla alfanumerica che identifica l'elettrodo per esempio quale informazioni può darci la confezione se sulla confezione trovassimo la sigla alfanumerica che identifica l'elettrodo con e 44 t 3 c 1 9 r 0 9 k v 20 allora la prima posizione occupata dalla lettera e che indica l'elettrodo rivestito in seconda posizione riportato un numero questo numero indica la resistenza a trazione dell'elettrodo nella terza posizione troviamo una lettera in questo caso la lettera t che indica il tipo di applicazione dell'elettrodo la lettera t sta a indicare l'elettrodi con diametro maggiore uguale a 2,5 mm adatti a saldare laniere con spessori maggiori di 3 mm nella quarta posizione della sigla è riportato un numero che indica la qual la classe di qualità dell'elettrodo nel nostro caso la classe di qualità il numero 3 e sta a indicare elettrodi con resistenza 430 o 500 newton su millimetro quadrato nella quinta posizione della sigla potremmo trovare una o due lettere che indicano il tipo di rivestimento nel nostro caso abbiamo la lettera c che sta a indicare il rivestimento cellulosico nella sesta posizione della sigla è riportato invece un numero che individua la posizione di saldatura più adatta per l'elettrodo nel nostro caso abbiamo il numero 1 e sta a indicare una diciamo che questo elettrodo è adatto per saldature in tutte le posizioni nella settima parte della sigla è riportato un numero che si riferisce alle condizioni più idonee di alimentazione elettrica in corrente continua nell'ottava posizione è riportata una sigla che indica il rendimento dell'elettrodo e nell'ultima posizione c'è la nona questa posizione è occupata dalla sigla della prova di resilienza e la temperatura di esecuzione della prova quindi nel nostro caso la prova di resilienza ha utilizzato una provetta con intaglio a V con una temperatura di esecuzione di 20 gradi centigradi grazie grazie grazie